Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! E questo potrebbe essere un video sia utile per me, perché voi potreste darmi magari i vostri consigli, se tra qualcuno di voi c'è qualche giocatore navigato che magari ha qualche migliaia di ore su questo titolo, è utile per voi per conoscere magari qualche base del gioco, molto molto base appunto, perché io non conosco tanto di questo titolo. Questo titolo è uscito nel 2012 e attualmente è su Steam in versione free to play per quanto riguarda il gioco appunto del 2012 ma con l'esclusione di tutte le espansioni uscite in seguito. Infatti qua vedete che c'è upgrade to a full account dove potete andare ad acquistare le prime due espansioni a 30 euro, la terza sempre a 30 euro mi pare, o 24 insomma, e l'ultima 29,90 anche loro, oppure a 24, cioè una delle due a 24 in pratica. Con 100 euro invece ve le prendete tutte e vi prendete anche queste sottostorie. Il gioco ha delle particolarità che già mi colpirono nel 2012 quando uscì, io lo avevo acquistato, lo giocai anche in ferie dal lavoro quando uscì, quindi ci giocai un pochino poi, non mi ricordo niente ovviamente. Il gioco è basato su questi eventi, gli eventi che potete vedere sulla mappa e che potete andare a fare ed è un continuo, un evento dietro l'altro con quello che è il bello del gioco è la diversificazione delle classi. E' tutto abbastanza action, infatti possiamo, vedete, rotolare premendo il doppio tasto o premendo il tasto V consumando l'energia che vedete qua in basso, questa è l'energia, la mia stamina e la vita e il mio pet ovviamente. Questa è una missione di scorta dove io insieme a questi altri giocatori stiamo scortando questo carretto qua che sta attaccando. Io ho trovato l'evento sulla strada e lo posso andare a fare. La grafica è vecchiotta e si vede perché ci sono degli scorci, dei panorami veramente molto molto belli. Il gioco ha diverse, diciamo, features che io non conosco ancora. Il gioco ha un menu che non trovo proprio comodissimo, poi magari qualcuno di voi mi smentirà, però premendo il tasto H si apre il menu dell'eroe dove possiamo vedere il nostro equipaggiamento che si sta ancora sbloccando perché salendo di livello si sblocca tutto. Possiamo andare a vedere anche il wardrobe, quindi la possibilità di salvare dei preset, gli outfit che sono tutti quelli che potete acquistare sullo store a pagamento. Tra l'altro le gemme sono acquistabili anche con i soldi di gioco e i dice, quindi la possibilità di andare a colorare con i colori che acquistate o trovate in gioco. Abbiamo anche le altre opzioni, tipo il glider, le mount, il fishing, le skiff, quindi praticamente tutto il glider, quindi il deltaplano, la possibilità di avere mount che volano, mount che nuotano. Ma solo la maggior parte di queste è legata a delle espansioni, soprattutto la pesca che si sblocca solo mi pare nell'ultima o penultima espansione, non ricordo. Siamo arrivati, abbiamo finito. Il gioco poi ha delle peculiarità, cioè l'esplorazione è molto, diciamo, viene posto un focus abbastanza importante sull'esplorazione perché se guardate sulla mappa vedete che in ogni regione ci sono questi punti 9 su 17, non li conosco tutti onestamente, però potete vedere che ad esempio qui, adesso io qui spero sia, boh, sarà poi finita questo evento, comunque non mi ha dato nulla, probabilmente non me l'ha calcolato, però in pratica vedete questi punti qua in base alla regione dove siete. Praticamente qua vi dice i task, non sono le classiche missioni col punto esclamativo, ma sono, arrivando in una zona, c'è un tizio che vi chiede un evento, come l'evento che abbiamo incontrato ora, ma già predisposto. Lo fate, vi dice magari libera la zona dall'assalto dei mostri, oppure esercitati con le guardie, vi fa fare dei minigiochi, insomma delle cose per variare al classico, alla classica routine. Qua abbiamo invece 10 su 16, sono i waypoints, cliccando su waypoints voi pagate e vi teletrasportate lì. Abbiamo le vistas, che sono dei panorami, quindi voi vi mettete lì e vi parte un video che vi fa vedere l'area circostante. Mentre invece ci sono, in queste zone adesso qua non vengono segnate, dei tizi col binocolo, col monocolo, scusate, dove vi aprirà un'altra mappa, perché vedete che qua è tutta abbastanza acquerello, ma parlando con quelle persone vi sblocca ulteriori mappe. Potete trovare, ed è una cosa molto interessante, anche nell'inventario, che qua ho scelto di unire, ma in realtà è un mix di più borse. Vedete che Showbags mi mostra tutte le borse che ho, avere lo spazio anche per un'altra, anche se sblocca andando avanti, con le espansioni, cioè acquistando le espansioni. Potete trovare degli oggetti dove cliccando vi dice usa e la mappa vi segnala un punto dove c'è qualcosa. Ed è molto bello perché comunque vi dà voglia di esplorare, voglia di andare e nella mappa dove vi trovate andare a sbloccare tutto e completare la zona al 100% per avere un premio. Ed è un gioco strettamente basato su questo, sull'esplorazione, sul completamento di task, sull'ottenimento di oggetti e così via. Andando avanti qua nel menu E-Eroom abbiamo un modo di vedere anche le build. Possiamo settare più build, quindi con più skill, questo dovrò approfondirlo molto perché non lo conosco, perché in sintesi andando avanti, spero di non sbagliare nel dirlo, ma in base alle espansioni che abbiamo avremo modo di, ad un certo livello, di sbloccare delle ulteriori classi legate alla nostra classe iniziale. Quindi il nostro, io sono un ranger, potrò renderlo un druido o altre cose, sono le cosiddette mastery, ma ci arriviamo. Il training, qua possiamo andare a trainare delle skill che io ho aggiunto qui. Ce ne sono diverse, legate ovviamente alla nostra classe, qua possiamo spendere dei punti che noi guadagniamo andando avanti, con i livelli, livellando, e possiamo migliorare questa skill e la skill la possiamo trascinare e aggiungere qua. Abbiamo lo story journal, che qua ci dà le missioni iniziali che ho fatto. La storia, devo dire, che è carina, e anche se il gioco è completamente in inglese, è ampiamente comprensibile. Ci sono cutscenes, ci sono dialoghi, è comprensibile ed è carino, ed è, ci sono già stati dei colpi di scena nonostante sia la prima missione. Andando avanti, invece, vedete che andando avanti con le war season cambia anche l'anno, questo è il 1325, però andando qua è il 26, qua è il 30, quindi si svolgono in tempi diversi. La seconda missione, che ovviamente stiamo parlando della quest base, quindi del gioco del 2012, partirà a livello 20. Io sono attualmente al 18 e sto livellando pian piano, qua vedete in basso a sinistra che il mio livello è scalato al livello dell'area, quindi non asfalto tutti, ma riesco abbastanza agilmente in questa regione, che è una regione bassa. Abbiamo poi il crafting. Il crafting è una delle cose che conosco meno, ma ho scelto di fare il sarto e il lavoratore di pelli. Ma la cosa strana, e che a me sarebbe piaciuto girare abbattendo animali e raccogliendo pelli, non funziona così perché le pelli si trovano in una moltitudine di modi tutte lontane dal uccidere animali, ma al trovare casse in giro per il mondo, distruggere oggetti nell'inventario usando questi salvage kit, quindi cliccando possiamo usarlo su degli oggetti che possiamo distruggere, acquistandoli all'asta, premendo il tasto accediamo alla Black Lion Trading Company, dove possiamo andare a acquistare le espansioni cosmetici, andare a spendere gold per acquistare gemme, o usare gemme per acquistare soldi. Quindi vedete che è acquistabile anche in gioco la valuta a pagamento. E qua abbiamo l'asta dove possiamo andare ad acquistare qualsiasi cosa. Ci sono queste Black Lion Chests che ci danno oggetti all'interno, per cui dobbiamo avere una chiave. Io finora ne ho avuto una sola, ho aperto la cesta. Una delle cose brutte che ho notato di questo gioco è che questa cesta io l'ho aperta, ma così come anche quando apro altre cesta, il gioco non è che mi mette una lista, me li fa comparire qua in basso a destra, sopra la mappa, in modo molto veloce. Quindi io qui non capisco una fava di quello che ho preso, di quello che ho trovato. E questo è un peccato, è un peccato perché non riesco a tenere il punto di quello che sto raccogliendo. Poi in giro c'è gathering di minerali, di erbe, di alberi, si può fare veramente di tutto. E ovviamente andando avanti a esplorare, perché ci sono le varie regioni anche legate alle espansioni, si vanno a creare delle meccaniche interessanti, come ad esempio nelle espansioni, ho visto dei video dove ci sono delle missioni giornaliere da fare, come un percorso ad ostacoli, scalare una montagna per ottenere degli oggetti ogni giorno, per l'ottenimento di valuta. Ce ne sono un'infinità di valute di gioco, ci sono anche gli achievement che si possono ottenere, queste invece sono le masterics che non abbiamo ancora, quindi la possibilità di andare a vedere le varie espansioni della nostra classe. Abbiamo le miniature che non so cosa siano, tante cose non so cosa siano. Non lo so, non l'ho ancora identificato molto bene. Questa è la città, la città principale. Tra l'altro viene dato una mount a livello 10, ma è solo per poche ore, o è diciamo di gioco reali, quindi se non comprate le espansioni avete questa mount, che può anche saltare, è molto dinamica come utilizzo, è molto bella, ma dopo 8 ore, 10 ore, mi pare di gioco sparisce, quindi durerà poco. Qua possiamo entrare in città, la città è molto vasta e ci sono anche qui delle zone abbastanza elitarie, c'è una zona circondata da un campo di forza, che è una zona con tutti i tavoli da lavoro, con tutti i trainer del lavoro, ma potete accedervi solo se avete un pass, e questo pass costa diamantini, e diamantini che come vi ho detto ottenete pagando soldi veri, comprando diamantini, o comprandovi con i soldi di gioco, quindi nulla vi vieta di farmare cose. Il crafting è molto molto complesso, da quello che ho visto, qua è la città, vedete la mappa della città, la città è immensa, vista da fuori, vedete bellissima, del colpo d'occhio bellissimo, che mi aveva dato anche nel 2012. E qua abbiamo la città alta, c'è la regina, che sono andato a trovare, è tutto molto diviso, la lore è molto bella, e arriva anche dal primo gioco, che io giocai nel 2005. Abbiamo, ecco questa è la zona, che vi dicevo, questa è chiusa, e non potete entrare. Ci sono i vari quartieri, io al momento ho visto solo questo, perché ho dovuto fare delle missioni, potete vagare in giro per la città, ci sono tante cose, con cui interagire, molti venditori, molti personaggi, che vi danno, accesso a una possibilità di acquisto, di varie tipologie di oggetti, e vari collezionabili, che ottenete con le più svariate valute di gioco, che trovate in giro. Tipo di semplice questo, Ftalk, e mi fa, mostrami, e usano una valuta, Proof of Legend, e quindi è un'altra cosa, che sembrano delle skin, sì, e non so come si ottengono queste, cioè, ce n'è una moltitudine infinita, di queste cose, che potete ottenere in gioco. Il combattimento, credo sia uno dei più carini, che ho visto finora, in un MMO, perché comunque, è vero, si combatte col tab target, mi incastro a ripronunciare queste parole, tab targeting, scusatemi, quindi con il tab, inquadrate un nemico, e poi cliccate le skill, ma è tutto molto veloce, anche molto dinamico, perché, c'è una sorta anche di sistema telegrafato, dove vi compariono, sotto di voi, i vari cerchi, delle azioni dei nemici, e andate a schivare, in questo caso io adesso scendo, vedete che se io faccio con la tasto V, rotolo, o doppio clic, rotolo, e consumando però la stamina, posso saltare, posso usare il colpo che mi rende invisibile, e quindi agire stelta, qua ci sono tutti i vari vendori importanti, quindi c'è la banca, ad esempio, dove potete depositare le cose, io ho comprato accidentalmente all'asta, queste lion chests, ma le chiavi sono solo a pagamento, con le gemme, i diamantini, come li chiamavo prima, la zona è veramente molto bella, c'è la caratterizzazione del mondo, il fatto che comunque non è legato alla World of Warcraft, con i punti di, punti esclamativi gialli, con cui dovete interagire, prendere mille quest, e procedere avanti, ma vagando per il mondo, completando i vari, trovando tutti gli oggetti rari, tutte le viste, tutte le varie cose, delle varie zone, fate esperienza, livellate, qua vedete che c'è una vista, per poter guardare la zona qui, e sbloccarne una, perché anche qua in città, ce n'è una, Divinity is rich, ha sei viste, ne ho vista una, 13 punti di teletrasporto, ne ho trovati sei, e punti di interesse, ce ne sono 21, e ne ho trovati solo sette, e vedete che se io vado avanti, io adesso sono qui, posso andare e vedere che c'è, ci sono le varie zone, dove magari, sì qua c'è un punto di interesse, sicuramente, ci sono dei mercanti, dei venditori, e ci sono tante cose, io non so dirvi, perché a livello di lore, il gioco a me piace tantissimo, non so dirvi se sarà, il mio gioco preferito, ma l'aveva consigliato qualcuno di voi, ci sono dei lati, veramente molto belli del gioco, che mi invogliano ad andare avanti, ce ne sono altri meno, che mi ispirano meno, vabbè non c'è l'housing, ma vabbè ci passeremo sopra, ci sono le guild hall, ma non ho una gilda, è molto bello il fatto, che si possono farmare le cose, ottenere le cose, ma non lo so, onestamente, non so se lo continuerò, è un gioco che ho messo in lista, dei preferiti, anche dei desideri, anzi su steam, le espansioni, almeno le prime due, ma non so dirvi se lo prenderò, non devo ancora inquadrarlo bene come gioco, però intanto volevo parlarvi di queste basi, che io ho conosciuto finora, che ho imparato, sto aspettando il livello 20, quindi sto farmando, cioè la caratterizzazione, il fatto di sentirsi parte di un mondo, di dire adesso ok, vado lì, prendo l'oggetto, c'è, e c'è come in pochi altri giochi, ad esempio posso dirvi che di Final Fantasy 14, mi piace tantissimo l'housing, che è abbastanza elitario, quindi è un bello obiettivo a lungo termine, ottenere una casa, un giardino, pagarne il renting, però di contro non mi piace molto il sistema delle armature, che è abbastanza predefinito, cioè almeno a livelli normali, non in endgame, non ce ne sono tantissimi, cioè non è che potete come in questo gioco trovare più pezzi di armatura, c'è quello di quel livello, fine, e non mi piace molto il crafting, devo dire mi piace molto quello di Final Fantasy, perché sono veramente tante classi, non mi piace moltissimo la casa d'asta, il fatto che si fanno pochi soldi, che altro dire, di Black Desert mi piacciono tante cose, la lingua non è un grandissimo problema, ma Black Desert è estremamente dispersivo, per quanto ha fin troppe cose, l'housing ce l'ha, le mount ce le ha, però magari si basa troppo sulle guide, cioè devi ottenere quell'oggetto per fare quella cosa, e quell'oggetto lo equipaggi ti servirà, cioè ha un senso di progressione pazzesco, ma un senso di progressione è Black Desert, basato con scala sull'infinito, e quindi quello è un po' un peccato, però lo ritengo ancora uno dei più validi, non riesco purtroppo a inquadrare questo Guild Wars 2, e per questo io attendo un vostro parere, magari faremo una chiacchierata in live una sera, dove magari spero di avere tra il pubblico degli esperti del gioco, è un gioco senz'altro valido, che merita comunque anche l'acquisto delle espansioni, ci stanno dietro ancora tantissimo gli sviluppatori, non so se la tipologia di gioco sarà quella che io sto cercando, soprattutto a lungo termine, perché cosa mi piace? Non lo so, tante mount qua, leggevo che ci sono tre tipi di mount, ma con infinite varianti, ci sono anche quelle che volano e va bene, però a me piacerebbe fare il crafting, vendere oggetti all'asta, qua non so se sia basato su questo, per quanto poi ci sono dungeon anche qui, il group finder per i dungeon, ci sono i boss, c'è il pvp, cioè ci sono tante cose carine, la lore è molto bella, però sapete, bisogna essere mille volte sicuri, prima di iniziare a dedicarsi è totalmente un gioco, soprattutto perché richiederà tante ore, e soprattutto perché richiederà un buon impegno, perché è in inglese, quindi bisogna stare attenti alla storia, seguire, appassionarsi, insomma non è il classico gioco che si prende alla leggera, per quanto questo credo sia il gioco più casual tra tutti quelli che abbiamo visto finora, perché quello che dicono praticamente tutti è un gioco che ti aspetta, tu vuoi fare questo, vuoi smettere due settimane, ricominci i giochi, in un abbonamento, il gioco ti aspetta e va avanti, quindi sarà da chiarire, però per intanto mi fa piacere avervi mostrato queste basi che io ho appreso finora, è un video molto superficiale, lo ammetto, ma il mio approccio è sempre stato quello del, come dico sempre, dell'amico che viene e gli mostro il gioco, che non conosce, o al contrario invito l'amico che ne sa tanto e mi spiega un pochino quello che mi sono perso. Mondo veramente bello, veramente bello, soprattutto l'esplorazione, perché trovate ad esempio qua, qua ci sarà magari un nemico, ci sarà magari una quest, un personaggio che mi parla, trovo un evento che parte, mi porta qui e mi fa ottenere un oggetto che poi mi dà un altro evento nascosto da un'altra parte, quindi è molto bello questo aspetto qui e ai tempi era innovativo. Ragazzi, fatemi sapere, sfondate i commenti qua sotto, perché fatemi sapere se sto sbagliando qualcosa, quali sono le vostre esperienze su questo titolo, se non lo conoscevate, se vi ispira, fatemi sapere, se lo conoscete, datemi i vostri consigli e ditemi magari cosa ho sbagliato, cosa c'è ancora da scoprire oltre a quello che ho già scoperto per conto mio. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video in play. Alla prossima e ciao ciao!